ciao ragazzi e bentornati sul canale video unboxing e andiamo a visionare il modello dell'autoblindo ansaldo ab 41 della creale model kit completamente in tesina in scala 1 a 35 e un vero prodotto italiano degli anni 90 scatola semplice come potete vedere una semplice scatoletta quindi non ci resta che aprire e andare a vedere come è composto il modello prima cosa che andiamo a vedere sono le istruzioni semplici prima pagina semplice con la sezione del modello e ecco qua le istruzioni primo passaggio costruzione e montaggio degli interni qualche accessorietto nella cabina ruote e infine la toretta montaggio semplice e facile molto facile da realizzare andiamo a vedere i pezzi ecco qua questo bel tocco di resina che è composto adesso vediamo composto dagli interni eccoli come vedete vediamo un po se riusciamo a fare un dettaglio ecco qua con il blocco motore una cassa stampati questo è l'interno e questo è l'esterno del modello che per essere un kit in resina e degli anni 90 diciamo che era ben realizzato c'è da correggere questa parte qui perché la grata non è stampata in modo coerente insomma non vedo neanche tanti sbavide di col di di resina ripeto stiamo parlando di un modello degli anni 90 andiamo a vedere cosa c'è ecco la toretta ecco questa è la parte inferiore e questi sono andiamo a vedere le ruote ne prendo una adesso avvicino metto a fuoco ecco qua questa è la ruota sono 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 cinque no sono devono essere sei due cinque e una sei questi sono gli altri accessorietti ne prendo qualcuno perché molti sono molto piccoli però come si dovrebbero vedere questo è l'attacco penso che vada qua è ovvio che è da pulire e andiamo a vedere altri ecco questi sono i ganci ecco metto la mano ok il cruscotto qualche leva questi sono i fari da pale e tutto adesso vedo comunque vedo comunque è una resida molto molto dura molto molto dura quindi sarà anche difficile staccarli e soprattutto pulirli comunque questi vi faccio rivedere i ganci i gancetti molto delicati molto molto delicati questa è la torretta questa è la torretta e questa è la torretta qui sono gli accessorietti che sono comunque blocco motore altri pezzi del motore che vanno all'interno del caro il sedile insomma tutta una serie di accessori che non sono talmente piccoli ragazzi che ho paura di perdere e di romperli visto che il kit è degli anni 90 quindi ho molta paura che si rompono quindi questo è tutto questo c'è il verso questo dovrebbe andare così ecco qua ci è riandato questo è il modello ve lo faccio vedere più un pochettino più dettagliato da pulire questi pezzi qua pure qua e questo questo è tutto il foglio delle istruzioni molto semplice abbiamo visto questo è il foglio delle istruzioni ecco vedete crea il model via barfrae 24 26 angolo via micara zona vaticano questo insomma è un marchio storico nostro che non produce più kit a meno da quello che io so non produce più kit quindi questo questo unboxing dedicato a questo kit della Crean model degli anni degli anni 90 detto questo se vi è piaciuto il video mettete un like commentate iscrivetevi al canale solite cose insomma e ciao iscrivetevi al canale a iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale grazie a tutti